Si poteva evitare la tragedia avvenuta a Ortone il 13 aprile del 2017, quando il 51enne Francesco Marfisi uccise a coltellate la moglie Letizia Primiterra e la sua amica Laura Pezzella? E' la domanda che è emersa nel corso del rito abbreviato che si è tenuto davanti al giudice Isabella Maria Allieve. Va avanzata questa domanda l'avvocato Luigi Leo, difensore di parte civile dei genitori di Laura Pezzella, che ha chiesto anche un supplemento di indagine per chiarire, soprattutto perché ci sono stati diversi allarmi prima degli omicidi, allarmi che avrebbero potuto essere ben percepiti, sono le parole dell'avvocato, per evitare che accadesse quello che è accaduto. Quindi ha chiamato in causa l'avvocato, gli investigatori, le forze di polizia, quelli che hanno investigato e quelli che hanno conosciuto Marfisi prima degli omicidi. Ha anche precisato l'avvocato che la moglie si era ricata altre volte dai carabinieri per denunciare quello che il marito le faceva e lì in caserma sembra che ci siano stati diversi allarmi. Questo è uno dei motivi che ha indotto a chiedere un supplemento di indagine. La giudice Isabella Maria Aglieri lo deciderà il prossimo 6 giugno, quando ci sarà una nuova udienza, dovrà dire se accettare o meno il proseguo di queste indagini. Intanto è stato accertato che l'imputato non era in condizioni di non intendere e di volere. Lo ha deciso una perizia, una perizia fatta dalla psichiatra Marilisa Amorosi. Invece per il consulente della difesa, lo psichiatra Filippo Maria Ferro, Marfisi avrebbe ucciso in preda ad un raptus. Ma questi sono elementi che si vedranno in fase successiva. La lotta che porta avanti a questo punto l'imputato è solo quella di evitare l'ergasto nella sentenza finale. Ma è una strada tutta in salita quella che deve percorrere.